Eccoci di nuovo in diretta, vi terremo compagnia per circa un'ora con i nostri ospiti, il primo qui in studio è il dottor Alessandro Natali, grazie per essere qui con noi, andrologo e proprio con lui oggi ci occuperemo della terapia per la disfunzione erettiva. Altre volte abbiamo toccato questo tema, ma mai approfondito in alcuni dettagli. Anche in un momento diciamo abbastanza topico, come si suol dire, per questo tipo di problematica e di terapia, perché ricordiamo ai nostri telespettatori che l'anno prossimo sono i 20 anni della pillolina blu. Cioè quindi è già diventata maggiorenne, l'anno scorso ha fatto i 18 anni la pillolina blu e l'anno prossimo, proprio di questo periodo, l'anno prossimo saranno 20 anni, 20 anni che è stata messa in commercio questa pillolina blu. Cosa è cambiato da quel momento in questi 20 anni? Questa è una domanda molto bella che richiederebbe anche tanto tempo per rispondere, noi ne abbiamo il giusto, però cercherò un pochino di tratteggiare per i nostri telespettatori quello che giustamente ha detto, mi ha chiesto lei, cosa è cambiato? È cambiato tanto, è veramente cambiato tanto e sia per noi addetti ai lavori, se io ripenso a 20 anni fa, mi considero rispetto a ora, ci ripenso e dico ma ero proprio analfabeta sul problema di disfunzione rettiva. Eppure qualche cosina anche 20 anni fa, sapevo sull'argomento, non per niente 35 anni che mi occupo di questo settore, però al di là della battuta ho usato questo termine analfabeta perché 20 anni fa rispetto a ora eravamo degli analfabeti in questo settore. Sia noi addetti ai lavori e ancora di più ovviamente i nostri ammalati e i nostri pazienti, questo perché? Perché sicuramente la scoperta, ricordiamo del tutto occasionale, della pillolina blu perché ricordiamo che era studiata per problemi di cuore, problemi di pressione e poi si vedeva che sul cuore e sulla pressione faceva poco o nulla, ma faceva tanto in un altro settore che è quello della erezione. E da allora direi che c'è stata un po' una rivoluzione copernicana sull'argomento perché abbiamo incominciato a conoscere di più il meccanismo dell'erezione, le problematiche che erano alla base di questi meccanismi e quindi da analfabeti come potevamo essere 20 anni fa, piano piano abbiamo incominciato ad alfabetizzarci e ora direi che sappiamo decisamente tanto da questo punto di vista, ma come sempre nella scienza e soprattutto nella medicina le scoperte da questo punto di vista sono un po' come le ciliegie, cioè una tira l'altra e c'è stato da questo punto di vista un decennio, quello che è andato appunto dal 1998 al 2008, che ha visto veramente un tourbillon di scoperte, di fatti le varie pilloline colorate vengono spalmate in questo decennio da un punto di vista proprio della scoperta e della messa in commercio. E questo ovviamente a noi ci ha permesso di poter essere sempre di più utile ai nostri ammalati perché ricordiamo che queste pilloline sono delle medicine che servono a risolvere dei problemi nella stragrande maggioranza dei casi legati a disfunzioni organiche che dal punto di vista della risposta sessuale noi possiamo avere. E tra l'altro si è capito anche un po' una funzione quasi medica di questa pillola alla fine, curativa? Sì, di fatti è questo l'aspetto molto importante perché all'inizio queste pilloline, la blu, l'arancione, la gialla che essa sia, noi le utilizzavamo e io per primo come on demand, come si dice con termine anglosassone, cioè al momento tu hai una disfunzione per cui non riesci ad avere un'erezione valida dal punto di vista soprattutto della rigidità e prendevi la pasticca per ovviare a questo problema. Poi da questo aspetto abbiamo incominciato a vedere che ci poteva essere una valenza curativa, terapeutica di questi farmaci cioè che indipendentemente dalla necessità in questo caso di avere un rapporto sessuale questi farmaci presi una volta al giorno, una volta ogni due giorni, una volta ogni tre giorni, questo a seconda della caratteristica della pasticca ecco perché è fondamentale la medicalizzazione, cioè che sia il medico e lo specialista a gestire questo tipo di problematica perché è lui che sa se il paziente può prendere quella pasticca da un punto di vista curativo o l'altra e quant'altro appunto si è visto che si poteva riabilitare una funzione, quella erettiva, che in qualche modo era disfunzionante e ecco che oggi è entrato nel nostro armamentario anche l'aspetto curativo per l'utilizzo di questi farmaci quindi questi farmaci possono essere presi anche come cura indipendentemente dalla necessità un po' come prendiamo l'aspirinetta quando abbiamo dei problemi di circolazione il nostro medico curante ci dice prendi l'aspirinetta tutti i giorni perché ti fluidifica il sangue ecco ugualmente come traslato possiamo dire che lo specialista dell'erezione da questo punto l'oroandrologo darà al suo ammalato, al suo paziente la pasticca da prendere per un determinato lasso di tempo due mesi, tre mesi, quattro mesi, questo lo valuterà lo specialista come aspetto curativo in associazione o meno eventualmente all'utilizzo al momento on demand ecco si è sottolineato anche l'importanza di rivolgersi proprio allo specialista, al medico perché comunque è vero sono state all'inizio pubblicizzate come pillole insomma un po' fai da te fai da te ed ed edonistiche soprattutto se mi passa il termine ecco invece no, sono dei farmaci, delle medicine che prima di tutto non sono fai da te e non sono edonistiche e questo va sottolineato. Come si prende la pillolina? Appunto per la pressione la pillolina se uno ha il colesterolo o la glicemia alterata se uno ha una disfunzione erettiva dove l'oroandrologo avendo fatto il percorso diagnostico ha messo in evidenza determinate alterazioni che possono essere corrette dalla pillolina colorata lo specialista prescrive la pillolina colorata Si può parlare della pillola blu come una sorta di spartiacque nella terapia di questa disfunzione? Direi proprio di sì perché ritornando a quello che dicevo prima che era un alfabeta 20 anni fa io 20 anni fa quando mi si presentava un paziente con un problema di disfunzione erettiva quindi stiamo parlando di prima del 1998, non è che stiamo parlando di 50 anni fa stiamo parlando della fine del millennio scorso io avevo a disposizione poche armi diciamo l'arma più gettonata era quella della microiniezione a livello penieno di farmaci vasoattivi che sono ancora presenti ovviamente perché rimane sempre uno zoccolo diciamo duro di problematiche che queste pasticche non risolvono diciamo perché ricordiamo che nella migliore delle ipotesi possono essere utili a curare l'80% delle disfunzioni erettive ma rimane sempre un 20% in cui non sono efficace queste pasticche però appunto 20 anni fa io avevo solo a disposizione queste microiniezioni e poco più poi la chirurgia peniena con l'impianto delle protesi che è sempre presente ovviamente però il grosso delle problematiche non poteva essere affrontato in via medica con farmaci per bocca quindi lo spartiacque di questa benedetta pillolina blu da questo punto di vista è sostanziale insomma ecco a volte può diciamo non funzionare in questo modo diceva c'è uno zoccolo duro insomma che magari non riesce a reagire non risponde ma possono anche essere dannose per esempio si è sentito più volte dire fanno male al cuore ma comunque a chi ha problemi cardiace e questo non finirò mai di ripeterlo diciamo che allora abbiamo ricordato all'inizio di trasmissione che erano nate proprio per brava erano nate proprio per curare il cuore quindi come può essere che un farmaco che nasce per curare il cuore diventi nemico del cuore non esiste ok però al di là di questo le leggende metropolitane che in questi vent'anni si sono succedute sono state le più varie e quindi io ribadisco sempre in queste trasmissioni quando faccio lezioni ai miei studenti con i pazienti nelle sedi eventualmente di congressi e convegni dove vengo chiamato per aspetto divulgativo dico sempre che questi farmaci sono controindicati le pilloline di qualunque pillolina si tratta sono controindicati solo nei pazienti che hanno avuto un infarto recente e il cui cardiologo dica che ancora non può essere fatta una attività fisica con un determinato sforzo cardiaco questa è una situazione in cui sono controindicate poi se il cardiologo al paziente che ha avuto un infarto tanto per essere chiaro dice caro signore tu puoi riprendere la tua attività fisica per attività fisica si intende la partita di squash di tennis la vasca in piscina o quant'altro ovviamente quel paziente può ricontinuare a fare la sua attività sessuale e può eventualmente beneficiare del farmaco della pillolina in questione oppure l'altra controindicazione è quando sempre su indicazione del cardiologo quel paziente deve fare uso di particolari farmaci per il cuore che si chiamano nitro derivati il cerotto alla nitroglicerina o la pillolina sotto la lingua alla nitroglicerina ecco anche in questa occasione c'è la controindicazione però in tutte le altre situazioni quindi anche quando c'è la pressione alta e si prende le pasticche per la pressione anche anche quando si è avuto un infarto ma il cardiologo ci ha detto che è tutto a posto e non si prendono questi benedetti nitro derivati questi farmaci non fanno assolutamente male al cuore anzi torno a ripetere soprattutto la pillolina blu era stata studiata come farmaco anti-anginoso cioè come un farmaco per curare l'angina che è un problema di circolazione delle coronarie quindi assolutamente sfatiamo una volta di più questo mito, questa leggenda metropolitana che non esiste perché ancora tanti pazienti sono impauriti diciamo da questo perché non hanno ovviamente un'informazione corretta corretta ci sono proprio adesso insomma nell'attuale presente nuovi farmaci nel campo di questa disfunzione dunque come ho detto il tourbillon dal punto di vista scientifico e delle scoperte si è avuto fino al 2008-2009 diciamo ok poi recentemente due o tre anni fa è stata messa in commercio proprio da un'azienda toscana la Minarini un altro farmaco della linea della pillolina blu diciamo e quindi diciamo negli ultimi 3-4 anni si è aggiunto questo quindi ora come dico io ai miei studenti non abbiamo più le tre sorelle perché i tre farmaci iniziali erano le tre pillole colorate erano tre ora abbiamo le quattro sorelle da questo punto di vista che ci aiutano però riferendo a quello che lei stava dicendo come novità recentemente mi sembra che qualche volta da questa sua trasmissione l'abbiamo accennato il principio attivo di quello che ho detto prima che veniva somministrato con la microiniezione a livello del corpo cavernoso cioè l'alprostadil il principio attivo della microiniezione ora è fruibile anche sotto forma di gel o di collirio del glande come lo definisco io perché è una gocciolina che deve essere messa dal paziente nel meato uretrale esterno prima del rapporto e questo può dare in una determinata fascia di pazienti e quindi anche qui ci vuole l'intervento dello specialista che dica che è il paziente idoneo per questo tipo di trattamento ci può essere un questo nuovo non è un nuovo farmaco diciamo è una nuova via di somministrazione di un farmaco vecchio diciamo insomma senza dover ricorrere alla microiniezione quindi sicuramente più compliante per il paziente e può essere sicuramente utile anche a volte come terapia associativa quando questi farmaci per bocca come diceva giustamente lei magari non sono pienamente efficaci allora questo può questo farmaco l'alprostadil somministrato sotto questa modalità come collirio del glande come le ho detto prima può essere eventualmente utilizzato insomma il tabù però è stato abbattuto perché insomma gli uomini parlare di questo insomma difficilmente no? ce li vediamo ce li troviamo sì direi che allora il tabù ancora completamente non è stato divelto insomma però direi che in questo muro ci sono diverse crepe insomma ecco si incomincia a vedere delle belle brecce come si dice a Firenze dove si vede oltre insomma ecco il fatto che comunque anche la pillolina blu sia stata pubblicizzata in maniera anche così ecco diciamo a volte un po' più superficiale magari meno medica può comunque aver aiutato assolutamente sì come tutte le cose c'è i pro e i contro sicuramente il diciamo il parlare e il pubblicizzare il propagandare anche in sedi chiamiamole così non istituzionali certe scoperte ha aiutato a aprire questa sempre di più questa breccia nel muro del tabù di contro però ci può essere stata a volte la banalizzazione ecco dove è fondamentale ecco una trasmissione come la sua dove esperti del settore affrontano problemi anche chiamiamoli così spinosi non in modo diciamo né in modo diciamo poco chiaro né tantomeno in maniera banalizzante ma in maniera corretta il più chiaramente possibile per il pubblico perché questo permette di avere sempre più conoscenza perché fondamentalmente è la conoscenza cioè l'eliminare l'ignoranza che è fondamentale per il pubblico da un certo punto di vista ma anche per certi medici mi spiego perché certi preconcetti iniziali c'erano anche nella mia diciamo così in casa mia diciamo da parte di medici magari ovviamente non addetti al settore però sempre medici che magari non adeguatamente informati su questi farmaci ne hanno osteggiato o comunque ridotto in maniera consistente l'utilizzo insomma almeno inizialmente quando un paziente deve comunque far uso può iniziare a far uso di queste pilloline o comunque di questi farmaci c'è un lavoro soltanto dell'andrologo oppure di un'equipe insomma anche altri medici vengono coinvolti allora diciamo che il problema della disfunzione erettiva è per definizione un problema multidisciplinare come si so dire quindi chiaramente l'andrologo è un po' quella figura che fa da collante come si suol dire con altre esperienze e con altre conoscenze ad esempio come può essere l'endocrinologo cioè il specialista che si occupa di ghiandole perché ricordiamoci a volte la disfunzione erettiva può essere legata a problemi di ghiandole come l'ipofisi la tiroide la surrene i testicoli oppure diciamo il diabetologo perché ricordiamoci che la disfunzione erettiva può essere una conseguenza e una complicanza del diabete oppure l'ipertensivologo il cardiologo che abbiamo ricordato non dimentichiamoci dello psicologo e dello psicosessuologo che è elemento e figura cardine nella diagnostica della disfunzione erettiva anche perché ha più tempo per spiegare perché quello che conta fondamentalmente per il paziente che ha la disfunzione erettiva al di là dell'inquadramento e degli esami chiamiamoli così organici e fisici che devono essere fatti dall'orandrologo lo psicologo e lo psicosessuologo ha la funzione di soprattutto in determinati disfunzioni erettive di tratteggiare un profilo di personalità del paziente vedere ad esempio se ha un'ansia di tratto un'ansia di stato se ha aspetti depressivi nel suo carattere diciamo e quindi tutte cose che sono estremamente utili anche se non si oggettivano perché non c'è un doppler faccio per dire un elettrocardiogramma che ci dice il livello di ansia di stato che quel paziente ha ma ci sono ovviamente ad esempio dei questionari specifici che permettono di valutare e di oggettivare l'entità del problema perché l'ansia sappiamo bene che entra in gioco in maniera preponderante in un problema di disfunzione erettiva proprio come causa o come complicanza magari di un problema di disfunzione erettiva di modo che il paziente se non è ansioso poi lo diventa per l'ansia della prestazione diciamo insomma quindi come lei vede è un puzzle quello del 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 paziente con la disfunzione erettiva alla cui diciamo stesura concorrono varie figure specialistiche insomma assolutamente quanto è difficile o facile insomma far comprendere al paziente della necessità comunque di prendere anche questo tipo di è di fare brava e anche questo non è fa ora è un pochino più facile rispetto al passato spesso e volentieri a volte i pazienti quando magari c'erano anche meno pillole a disposizione erano atterriti per ignoranza torno a ripeterle che fossero da pillolina blu come dico io diceva ma mi diceva ma mi diceva ma professore non sarò mica da pillolina blu come se la pillolina blu fosse l'ultima spiaggia di una situazione drammatica e quindi a volte era faticoso far capire proprio faticoso fisicamente diciamo far capire al paziente che quella pillolina non era alla fine di un percorso perché non c'era altro da fare no era proprio da collocare all'inizio di un percorso soprattutto curativo e riabilitativo per arrivare a guarire di quel problema e poi magari non avere più bisogno di quella pillolina blu ecco però le dico la fatica era tanta e è ancora tanta perché soprattutto sono pazienti giustamente che richiedono tempo richiedono esperienza da parte di chi li sta ad ascoltare e richiedono anche diciamo il counseling come si dice cioè capacità di saper ascoltare e capacità di saper trasmettere anche quello che magari la scienza ti ha dato modo perché a volte magari uno può avere tante conoscenze ma non riuscire a trasmetterle poi al paziente a far capire magari in termini chiamiamoli così semplici quello di cui invece il paziente ha bisogno ecco in questi casi c'è un paziente ma è come se fossero due poi pazienti perché il partner alla fine insomma fa un po' parte di questo meccanismo sì di fatti soprattutto quando i pazienti mi si presentano alla prima consultazione magari da soli e sono in coppia io dopo aver affrontato il problema e quant'altro aver spiegato gli accettamenti da fare e quant'altro esigo uso proprio questo termine esigo e i miei pazienti lo sanno che successivamente dopo che hanno fatto tutti i vari accettamenti tornano con la propria partner per due motivi uno perché come dico io proprie parole testuali ai miei pazienti quattro orecchie sentono meglio di due primo e poi facendo anche qui una battuta dico che il sesso fino a prova contraria si fa in due diciamo da soli si fanno altre cose e quindi questo in maniera molto scherzosa diciamo però per far capire al paziente che non è un problema suo diciamo è un problema di coppia che va affrontato anche di coppia non solo in termini diagnostici ma poi anche in termini terapeutici grazie professor Natale per essere stato qui con noi e per averci dato queste importanti preziose informazioni su temi insomma davvero abbastanza spinosi spinosi e che è vero c'è tanta informazione anche sul web ma va ben carpita insomma va filtrata e molto bene grazie a tutti grazie a tutti